Un ultimo gesto di generosità da parte di un ragazzo voluto bene da tutti. Hanno autorizzato l'espianto di organi familiari di Daniel Marinelli, il figlio dell'ex patron dell'Ancona, rimasto vittima domenica 20 dicembre di un tragico incidente stradale. Il giovane diciottenne si era steso a riposare sui sedili posteriori perché si sentiva stanco dopo una serata trascorsa in discoteca con l'amico del cuore, a cui aveva chiesto di guidare la sua Fiat Panda Bianca, poi alle prime luci dell'alba nel tragitto verso casa lungo la statale adriatica, all'altezza della stazione di Marotta, il tragico schianto. L'auto ha tamponato prima un'altra Panda grigia, poi una Citroen DS3 per finire la sua corsa ribaltandosi, secondo una prima ricostruzione. Infatti il ragazzo avrebbe cercato di rientrare in corsia durante un sorpasso, ma nell'impatto la sua vettura si è ribaltata sul fianco destro, andando ad invadere l'altra corsia. Proprio in quel momento stava sopraggiungendo la Citroen condotta da un poliziotto 54enne di Senigallia che stava andando a prendere servizio alla polizia autostradale di Fano. Nell'impatto è stata coinvolta anche una quarta vettura, una Toyota Yaris parcheggiata al lato della careggiata. Il rumore è stato così forte da svegliare i residenti, addirittura alcuni pezzi delle auto sono arrivati fino ai terrazzi e fin sopra i tetti di alcune case. Per estrarre danni e dalle lamiere dell'abitacolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Rianimato e trasportato in eleambulanza al torretto di Ancona è deceduto poco dopo per le gravissime ferite riportate. Le altre persone coinvolte nell'incidente sono state trasportate al Santa Croce di Fano. L'amico della vittima, Francesco Cerioni, anche lui diciottenne e neopatentato, è stato giudicato guaribile in 15 giorni, leggermente ferito invece il conducente della Citroen. La donna che ha subito il tamponamento ha riportato un ematoma cerebrale, ma non è in pericolo di vita. Il magistrato ha disposto l'autopsia sul corpo di Daniel, che a marzo avrebbe compiuto 19 anni, terzo di 5 figli. Studente di ragioneria e calciatore del Borghetto, aveva iniziato la sua carriera indossando proprio la casacca dell'Ancona nella categoria giovanissimi. In campo dicono che era uno che non mollava mai. Un'intera comunità e il mondo del calcio si sono stretti attorno alla famiglia del giovane. Come da prassi invece Francesco, l'amico, è stato sentito dalle forze dell'ordine ed è indagato per omicidio colposo.